Gli enti pubblici producono negli anni un'enormità di atti e documenti, spesso cartacei, che diventano inevitabilmente difficili da conservare e reperire nel tempo. Per questa ragione il Comune di Santomero ha provveduto ad affidare la custodia dell'archivio ad una società esperta nel settore, la Cisia Progetti. Il vantaggio per l'ente pubblico è davvero enorme. Eliminare tutta la carta possibile e immaginabile e cercare di facilitare la storia documentale dei documenti, levando tutti gli alibi possibili e dipendenti e facendo in maniera che i cittadini possano avere subito e in maniera efficace e telematica tutte le documentazioni, tutti gli atti che servono a loro. La Cisia Progetti, che ha sede a Bellante e Mociano Sant'Angelo, è leader nel settore e avrà il compito di inventariare, catalogare, informatizzare i documenti comunali, conservandoli in appropriate sedi nel rispetto delle vigenti normative di privacy e sicurezza dati. Queste difficoltà il nostro gruppo aziendale è in grado di poterle risolvere attraverso dei procedimenti complementari. Uno tra questi è la gestione dei documentari in outsourcing, cioè la nostra azienda è in grado di accogliere presto le nostre sedi, che sono ambienti di massima sicurezza, archivi degli enti informatizzati e catalogati, che sono quindi suscettibili di ricerca attraverso dei procedimenti piuttosto semplici, ma informatici, che è appunto quello della gestione dei codici a barre.